Amici per la pelle sul teleschermo blu benvenuti ad una puntata zompata del TG Comics zompata perché in realtà sarà zompata quella precedente causa come potrete sentire influenza non intestinale perché quella riguarda Gianni ma quella che riguarda le condutture nasali del qui presente ben trovati ben trovati non credo che riuscirò a recuperare le uscite che ci sono state di venerdì scorso però magari se fosse metterò magari una listina sulla pagina del TG Comics comincerei come mio solito a Mazzarocca e vi faccio vedere un cofanetto di una pesantezza veramente unica il cofanetto del poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya il collection box della J-pop che se lo tirate a qualcuno ma veramente gli fate male ma appunto è meglio leggerlo indubbiamente molto molto atteso credo che sia l'unico al mondo in questa versione super mega cofanettato il costo è come si diceva è bello costa una cifra e lo paghi una cifra e quindi una bella piottella e passa la paura comunque è uscito è arrivato qua da noi sta andando a ruba tant'è che stiamo raccogliendo ulteriori ordini prenotazioni o chiamateli come più vi piace fatto sta che tre ce n'erano tre sono volatilizzati c'è un subito un mega un mega riacchiappo poi fire force planet manga 4 euro e 50 siamo arrivati al 10 come al solito ve lo ricordo è lo stesso autore di soul eater poi andiamo avanti con un bel vampire knight dovrebbe essere il terzo delle memories ebbene sì 6 euro e 50 sovraccopertinato segreti ed eventi mai narrati dal mondo di vampire knight andiamoci a spirucchiare un attimo all'interno disegni che non sono veramente niente male di mazzurino poi 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 ah questo albo mi ricorda che sono rimasto indietro di un numero quindi mi devo leggere il numero 3 perché il primo mi era piaciuto non poco è una mini di 4 vediamo un po' se riesco a perdermelo ma con le altre uscite mi ricorderò sicuramente di altra roba che sono rimasto indietro la disegnatrice è quella di wolf children ragazzuoli è una storia che ci racconta l'orrore della guerra molto molto bello devo dire ecco qua un po' l'interno per farvi rendere conto dello stile dei disegni poi i cicovaci per il ken eccolo qua 4 euro e 50 questa parody non mi ricordo a che numero finisca lo sapete boh c'ho un punto interrogativo comunque fatto sta che continua ad andare e vendicchia pure abbastanza bene eccolo qua poi 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 vi faccio vedere il nuovo numero di anteprima che festeggia anche lui i 90 anni di mickey mouse eccolo qua us ricco poi magari ecco faremo una puntatina dove facciamo vedere anche qualche novità che esce e poi riprendiamo con i manga per sempre per planet 5 euro e 50 natsume degli spiriti arriva al numero 22 e torna dopo tanto tempo al 22 anche lui red eyes eccolo qua fanta e scienza 6 euro e 50 di jun shindo eccolo qua madonna ormai è un botto di tempo che è uscito red eyes per non so quanti anni è che ci accompagna veramente veramente un botto gianni era fidanzato quando esce sono passati 21 anni di matrimonio e la vita è ancora lunga e anche red eyes dicevo dragon jam numero 16 prezzo 6 euro basket per tutti quanti e poi la grande Hiromu Arakawa ci porta la leggenda di Arslan che se non ricordo male dovrebbe essere un adattamento di alcuni romanzi infatti opera originale di Yoshiki Tanaka storia e disegni appunto di Hiromi Arakawa Hiromu scusatemi Arakawa anche questo devo decidermi a riprenderlo perché il primo numero non mi era dispiaciuto ma c'è pure la serie animata? mi pare di sì cambio genere anche se non so poi dove li appoggerò credo lì dovrò accatastare per terra finalmente recupero da parte di Coconino di altre opere del grande pazienza dopo pen total finalmente arrivano sia Zanardi gigantesca questa versione Puma Masteroid è bella bella grande prezzo 27 euro gioccate che bella il buongiorno mi dava una mano spostando un po' di materiale poi abbiamo anche Pertini eccolo qua pure questo imprescindibile prezzo 22 dividiamo le pagine con i randelli eccolo qua e questo è il secondo volume sempre Coconino dedicato a pazienza poi le situazioni di lui e lei numero 15 5 euro e 50 ragazzoli planet manga sempre planet proseguiamo la scia stanno messi quasi in ordine 4 euro e 50 per il numero 10 di Devil's Line che devo dire essere la rivelazione in realtà forse del 2000 2018 probabilmente non mi ricordo quando è cominciato se un pelino nel 2017 o completamente nel 2018 ma è una bella rivelazione probabilmente lo troveremo anche nella classifica di fine anno e poi Happiness anche lui spinge notevolmente siamo arrivati al 7 e mi ricorda che ho il dubbio se ho letto o meno il numero 6 per questi vampiroidi prezzo 5 euro e 50 e devo recuperare pure il volume singolo che era uscito del di Shuzo Oshimi spero che l'ho letto bene poi abbiamo dopo il terzo cofanetto escono anche i numeri singoli per quanto riguarda i Pokémon La Grande Avventura numero 8 prezzo 9 euro e 90 poi abbiamo il 15 J-Pop J-Pop ci porta anche il quindicesimo numero di Aganai 5 euro e 90 il grandissimo Kingdom io spero sempre in una ristampa dei numeri mancanti di Kingdom perché ve lo straconsiglio 6 euro e 90 poi Olimia è arrivato il numero 4 prezzo 5 e 90 anche per lui e altro numero altro titolo di cui sono rimasto indietro di un numero abbiamo Made in Abyss esce il 5 e io devo recuperare il numero 4 la volta precedente ho scelto 4 recuperate 3 e sto giro famo 5 e 4 vabbè prezzo 7 euro e 90 però mi piace mi garba non è niente male Kakegurui Twin lo spin off arriva al numero 3 prezzo 6 euro e 90 sempre J-Pop e poi Atom The Beginning numero 6 6 euro e 90 e Waltz Mond numero 5 eccolo qui 6 euro e 90 è ancora J-Pop gli ultimi due della J-Pop forse non lo so abbiamo Armed Girls Machiavellous 5 euro e 90 numero 5 numero 5 esatto e poi H.I.G. scene horrorifiche 21 5 euro e 90 poi 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 finita la J-Pop c'è un titolo coconino che ha avuto un notevole successo devo dire non me lo aspettavo dal numero 1 ma Utsubora ha venduto notevolmente per essere un volume da 18 euro eccolo qui questo è il secondo ad opera di Nakamura Asumiko Utsubora 2 si legge da qui mentre sento voci di avventori dall'esterno reduci dalla Comic Con di Vienna dove sicuramente avrà allettato tutti quanti gli astanti francofoni si dice francofoni anche per gli ennesi? beh se parlano in francese se vuol dire viennesi francofoni pensa come sto teutonici volevo dire ho detto francofoni francofoni se parlano tedeschi mi fai una carezza qua per favore ce ne avevo bisogno grazie ma ho detto a caretz from Antomex a caretz from Antomex pensavo che volesse fare una carezza pure Gianni ma invece arriva da ceffone voleva una tramba da Giannone e vabbè un saluto a tutti i internet ascoltatori come si chiamano followers instagram sbamos dallo Zio Mantomex e seguite il buon Lucone no seguite il TG Comics dove vi tocca vedere Lucone con le uscite di oggi che e ma me tocca pure comprarmele qualcuna ecco bravo vadi a fare la sua spesetta che stando all'estero potrebbe aver accumulato qualcosa qualcosa si si ho accumulato ah c'è un Aquaman aquaman faccio Aquaman da tutte le parti su questa si è crepato il monitor del telefono e lo devo andare a cambiare va bene grazie buon proseguimento buon proseguimento è la fine è la fine col Mauretto dopo tutto io voglio bene molto molto bene oggi piove già pioveva e vabbè allora Coconino presfandango abbiamo un altro volumozzo cartonatissimo a sto giro 20 euro niente niente male il fiume Scinano c'è anche il fiume Cigigante ovviamente Scinano il fiume Scinano mi ricorda la famosa canzone di Richard Benson i nani i nani sulle rive del fiume Richard Benson è il fumetto di Richard Benson va bene allora dopo le idiozie rendiamo omaggio a Kamimura e Okazati Scinano il fiume Scinano di cui vi mostro qualche cosa molto 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 intenso ecco qua mica male eh ragazzi bello 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 mi piace finalmente è uscito anche il terzo tomo di Berlin finalmente attesissimo 17 euro per Coconino l'opera di Jason Lutz o Lutes chiamatelo come vi pare però veramente era ora oh eccolo qua bellissimo 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 poi abbiamo per 001 la Galaverna Marco Corona prezzo 18 euro 18 euro guardate che bello all'interno mi disegni non male un bel tratteggio c'è e poi Cannibal Holocaust 2 per la Nicola Pesce 18 euro il regista e l'autore di fumetti più censurati della storia uniti nel sequel del film cult quindi c'è Michelangel Martin sicuramente Ruggero Deodato questo possiamo farlo vedere penso incredibile that's incredible eh sì 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 assolutamente ti passo un po' di materiale poi allora per fortuna stai lontano e non si sente Mauretto abbiamo edizioni Sido il mio regno eccolo qui 15 euro per la non mi fate dire le parolacce non completare la mia frase Gianni non completare la mia fase è che c'è un mistero c'è un mistero non finisce in na no non non finisce in na poi poi niente è tosta quando stiamo su insieme è veramente tosta allora gli aristocratici non a arte 19 euro e 90 l'opera di Alfredo Castelli e Ferdinando Tacconi l'integrale al servizio di sua graziosa paestà Tacconi che molti di voi ricorderanno su tante altre opere su tante opere della Bonelli qui con il grande Castelli che appunto è il creatore del fantasticissimo Martin Mister ma guardate quanto è bello sto volume ecco questo è della della non arte e qui come abbiamo fatto vedere per l'altro per l'altro volume non ridere basta come si chiama come si chiama il volume quello dell'Aurea che ne abbiamo venduti una marea con la F maiuscola fumetto con la F maiuscola cartonato che abbiamo fatto anche la presentazione mannaggia non mi viene e vabbè comunque anche questo fumetto con la F maiuscola ecco non vi fate sfuggire le chicche poi la Feltrinelli si butta su Manara pure lei 39 euro in questo artbook Milo Manara torna al suo cavallo di battaglia l'erodismo Gianni vuoi fare un commento no niente Gianni è rimasto traumatizzato la copertina del mio regno e comunque vabbè non so cosa c'è in questo volume ma non credo ci sarà qualcosa di nuovo boh vabbè forse chi lo sa no vabbè scusate è che a me Manara non meraviglia più quindi non so veramente che dirvi su Milo Manara preferisco dirvi qualcosa su Guido Buzzelli ecco questo sito è un volume bellissimo gigantissimo per Coconino Anna Lisa e il diavolo guardate che bello ecco se riesco a non sgarruparlo eccolo qua bello 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 grande Guido Buzzelli chissà se la z è aspra Buzzelli 25 euro poi altro volume questo è il numero 2 il primo ha avuto un grandissimo successo editoriale Cosmo il mercenario attenzione 19 euro e 90 anche qui si parla di fumetto con la F maiuscolissima e guardate che tavolone giganti mica male ragazzi bello 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 tant'è che pure questo si sono sbrigati a prenotarlo poi poi le divisioni di ferro non so perché Andrea me ne ha lasciate due copie qua sono uguali editoriale Cosmo sempre 5 pleuretti vi faccio vedere inside eccolo qua ecco qua ecco oggi è la puntata del fumetto con la F maiuscola abbiamo il nuovo volume per quanto riguarda Black & Mortimer la valle degli immortali e qui la gente semina sicuro 18 euro e 99 questi sono volumi veramente fantastici ragazzi mi pregio e mi fregio di essermi rifatto tutta quanta la collezione quando è uscita in edicola di Black & Mortimer quasi in contemporanea settimana scorsa in Francia e immediatamente dopo qui da noi bellissimo veramente molto 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 bello non lo so mi mette allegria quando esce un volume di queste cose storiche io ho trovato il mio regalo di Natale per Gianni e gli regalerò il mio regno ma fammi un naso così ti farò anche un naso così vabbè poi l'aggiunti ci porta un paio di volumi di Star Wars e qui si allepra il mauretto da lontano no non gliene può fregare di meno anno per anno la storia di una saga un viaggio temporale tra fantascienza e realtà copertina tutta embossed in rilievo a massa roba ah ah però guardate un po' stai super una mega ultra enciclopedia e infatti Mauro si è alleprato veramente tant'è che ha lasciato i suoi amati fumetti e si è diretto verso di me allora guarda controllerò quanto spazio ha Jar Jar Binks se ha meno di 5 pagine non lo compro ok solo se Jar Jar Binks ha più di 5 pagine va bene ok ho come l'impressione che questo volume rimarrà qua ma molto vaga eh devo dire Mauro altro volume per l'aggiunti 22 euro l'ho detto il prezzo di quello lì non mi ricordo atlante galattico e qui ci stanno un po' di rotte un po' di pianeti un po' di piante un po' di tutto qui non credo che lo possiate portare a scuola come libro di geografia però magari qualche insegnante potrebbe come dire apprezzare il gesto simpatico questo 49,90 non l'avevo letto the price eh vabbè potrebbe essere una strena natalizia ci stiamo avvicinando al Natale eh che dobbiamo fa poi andiamo a chiappare un altro po' di materiale qua mi sa che c'è un po' di manga senpai manga senpai con whispering blue un boys love prezzo 6,90 euro eccolo qua vediamo ah sì questa avevo visto qualche recensione in rete la storia delle foche delle fochette molto carina mi sembrava almeno sentirne parlare butterfly effect arriva al numero 7 6,90 euro poi continuerai sto molto con manga senpai anche se mi si era intravezzato un albo della ikari dirty waters numero 2 eccolo qui 7,90 euro consigliato ad un pubblico maturo e poi il nuovo numero di pendulum dovrebbe essere il secondo prezzo 6,90 euro finita la manga senpai eccolo qua il volume che vi dicevo abbiamo shumari 9,90 euro per la ikari e il grande osamu tezka e questi giorni c'è un overdose di tezka che penso veramente è duro anche per più grande amante rileggersi tutto quanto questa mole di pagine del grande osamu veramente ci vuole un botto di tempo allora poi passiamo a un po' di americani un po' di americani infinity countdown arriva al numero 4 ragazzuoli prezzo 3,90 euro una mini di 6 il secondo del fresh start di deathpool eccolo qui il prezzo è 3,50 euro potenza di fuoco è il titolo e poi dart vader arriva al numero 40 prezzo 3,50 si prosegue con weapon x numero 4 eccolo qui 9,90 euro guerra nucleare nucleare pack cinar cinar forse liquore al carciofo boschi e sorrentino facciamo vedere un attimo così volanti bus bene 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 poi vediamo come proseguirà il fresh start anche di amazing spider-man eccolo qui con spencer alle redini e ryan hotley ai disegni mi sembra un pelino meglio già del numero 1 non vorrei dire una cavolata prezzo 3,90 euro poi questa è la regular di nomen omen è arrivata soltanto la variant se non sbaglio 15 euro eccolo qui e poi il secondo this not girl di brian leo mulley autore di scott pilgrim come tutti quanti ben saprete è il secondo fumetto che io regalerò a gianni per natale 15 euro per la bd e sempre per la bd è uscito anche il nuovo numero di archi eccolo qua 15 euro infatti il buon mauretto si è ingrifato mark way e audrey mok eccolo qua facciamo vedere qualche cosa da zebem poi 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 riprendiamo con qualcosa di supereroistico con il marvel legends che questa volta ci vi propone la plate e la cover di secret wars con l'uomo ragno col costume nero bellissimo e bellerrimo indimenticabile 5 euro e 99 e poi si frescia di start anche per quanto riguarda hulk eccolo qua l'immortale number one abbiamo la variant e la regular la variant costa 4 pleuroidi e la regular costa 2 euretti secchi secchi poi bello bello molto a tesello l'album di topolino e ancora continuano i festeggiamenti per i 90 anni del topo più famoso del mondo 16 euro e 90 cartonato e pacchetti di figurine quindi tenete presente anche questo si prosegue sempre in versione disneyana ecco qua il topolino con la statuetta si vede tutta dorata tutta da paperi 5 euro e 50 sposta di qua sposta di là abbiamo deathpool contro vecchio logan in versione cartonata salgono da 9 e 90 a 12 euro aciderbolina e c'è un aumento qui e poi un fumetto che ha avuto un grosso successo 7 to eternity per rick remander molto amato qua in italia devo dirlo e c'è romo pegna se non vado errato 14 euro per il secondo numero che contiene gli albi dal 5 al 9 formato americano eccolo qua si c'è romo pegna il disegnatore mi sono ricordato bene poi per la panini novel julie marot ci presenta scandalon eccolo qui 16 euro nei miei testi metto le viscere i sentimenti il demone che mi abita è lo stesso che scorre nel sangue di ognuno è per questo che tutti si riconoscono in me e nella mia musica la differenza è che io cedo alle mie passioni e questo è il terzo fumetto che regalo a Gianni forse lui non gli può fregare qualche cosa nemmeno non lo so mo se lo sfoglia e dopo vi faccio vedere qualche pagina all'interno poi abbiamo gli schermi incantati per i crimini di Grindelwald eccolo qua 25 euro volumozzi cartonatissimi che a Natale vanno sempre una scheggia Gianni non fa una fascia proprio non glielo regalo guardate che belli questi qua tutti quanti vieni di pop-up pip e pip spice vase poise tutte carte cartelline cartoline molto 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 belli è teutonico francofono però oggi deve essere per forza francofono eccolo qua eccolo qua poi c'è un'altra tornatina di materiale che se ci arrivo adesso ve lo mostro mostro grande mostro piccolo abbiamo Eternity volume unico 8 euro e 90 se non vado errato anche se c'è no Valiant 92 mi pare che è rappresentato come volume unico Matt Kint Trevor Hairshine Ryan Wynn e David Byrne e scioccatevi la Valiant che non me la sottovalutate perché contiene sempre un bel po' di storielle interessanti poi il secondo volume di Dr. Morg dovrebbe essere l'ultimo non mi ricordo dovrebbero essere due fare autopsie è solo un modo come un altro per guardare dentro alle persone e vabbè insomma sarebbe meglio senza autopsie 19 euro e 90 Rita Porretto e Silvia Americone eccolo qua un bel po' di pagine abbastanza ricco e poi Generation Zero sempre Valiant eccolo qui da Zero a Eroi 8 euro e 90 sarebbe la collana Valiant 93 Heroescape con Van Lenty Bernard e Dalaus sta in Dalaus ci sta in Dalaus chi lo saus non lo saus pagina seminera e passa la paura poi torniamo a un po' di manga abbiamo Children of the Whales numero 8 5 euro e 90 Star Comics è sovracopertinato questo pure avevo cominciato a vedere la serie animata ma ovviamente poi uno si perde per strada Devilman Grimoire numero 5 no Devilman ma in inglese sarebbe più Devilman giusto? sarebbe più A proprio E sicuro? ma non mi piace vabbè 5 euro e 90 e lo squalificato e lo squalificato è ritorno aggiungito eccolo qua 6 euro e 90 bene 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 proseguiamo con Mob Psycho numero 8 attenzione uno dei fumetti di rottura proprio che rompe gli schemi con la sua grafica molto molto particolare 4 euro e 50 poi Gintama arriva al numero 45 4 euro e 90 e ultimi due ultimi due abbiamo Magi Adventure Adventure of Sinbad 4 euro e 30 il numero 17 e chiudiamo con One Piece Quiz Book eccolo guardate che riflessi dorati da regalare a Natale certo 6 euro e 50 regalo di Natale vuol dire un appresso comunque è sempre un pensiero eccolo qua pieno pieno di domandine che dovrebbe insomma fare da paro da paio a quello che era il Quiz Book di Dragon Ball bene di sciocchezze ne ho dette tante vi ho presentato un botto di materiale interessante che fa pure riva quindi che dire vado a prendermi una tachipirina e vi do appuntamento talora qualora ci fossero delle novità per il resto della settimana non riuscissi a recuperare quello che avevo saltato e ci vediamo prossimamente su questi schermi vi ricordo che le battaglie sono tante e viene avanti raffreddore gigante e che il chip per i merlo spero non si bagni perché qua ripiova è un'altra volta copritevi ciao ciao ciao